L'hotel Oleandro supera positivamente la prova del mystery client. La struttura di Marciana viene premiata con una stella in più dal nostro ospite in incognito. Il panorama mozzafiato, la vista delle isole dell'arcipelago e la sua posizione in mezzo alla natura lo rende un piccolo gioiello tutto il bano, con il rumore del mare e il profumo dei fichi che fanno da sfondo. Dalla terrazza panoramica è possibile ammirare la Corsica, Capraia e la Corsa Toscana, sotto la spiaggia di Sant'Andrea. All'interno la struttura è ben curata, le sale comuni, la zona esterna e un salottino con acquario e piccola libreria. Le camere sono pulite, anche se l'arredamento è un po' datato. Per il ristorante ottima la cucina, che a cena offre una vasta scelta tra carne e pesce. Il servizio è rapido ed efficiente. La spiaggia dell'hotel è libera e molto tranquilla. Nota positiva anche per il personale che si mostra discreto e a totale disposizione del cliente. Insomma, impossibile credere che l'hotel Oleandro sia classificato come un due stelle, per posizione, pulizia, qualità e cordialità ne meriterebbe uno in più.